Cambiamo adesso argomento, parliamo di sport, nello specifico con l'Ippica. Carboni vince il Gran Premio Fise Sardegna, Morruzzo su Ardita Nais vince il Gran Premio Mista del circuito Masaf e infine Lippo Park Palahorse di Golfo Ranci supera anche la pioggia. Vediamo il servizio di Giampiero Marras. Un giudizio tecnico sulla manifestazione nonostante il tempo inclemente? Ci è andato bene però, il tempo inclemente, le previsioni davano impossibile fare questa manifestazione per le piogge e invece siamo riusciti, poi siamo stati temerari diciamo così. Sì, stiamo finendo la manifestazione nel miglior modo, facendo tutte le gare come previsto da disciplinare Masaf. Il circuito nazionale Masaf è fatto apposta per i cavalli giovani, cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che questo circuito serva per far crescere dei cavalli giovani che un domani dovrebbero affrontare delle competizioni importanti per permettere anche all'Italia di competere a grosso livello. Qua in Sardegna cosa avete visto? Ci sono degli ottimi soggetti, qui c'è una tradizione, insomma, da tantissimi anni dell'allevamento. È molto sentito e ovviamente anche con tanti numeri come ci sono qua in Sardegna la qualità è senz'altro alta.